Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova serie di tutorial dedicati all'utilizzo del software Git è una rubrica che mi avete chiesto in tanti e quindi ho deciso di fare finalmente questi video per chi non sapesse che cos'è Git è un software che serve alla gestione di un progetto software per tenere traccia di tutte le modifiche e di tutti i changelog effettuati sui singoli file quindi come vedremo nei prossimi video serve a effettuare, a salvare le modifiche su un progetto, su un singolo file e a tenerne traccia, quindi permette di poter tornare indietro, vedere chi ha effettuato determinate modifiche se si lavora in gruppo e quindi è un software molto utile, ci permette di evitare di fare quelle noiose copie di backup per ogni progetto quando poi dobbiamo andare a fare delle modifiche sostanziali si può scaricare semplicemente dal sito web, è disponibile per tutti i sistemi operativi e quello che vedremo dovrebbe essere indipendente dal sistema operativo o quello che vedremo nei tutorial successivi quindi cliccate su download e lo installate e non dovreste avere grosse difficoltà io l'ho già installato, quindi partiamo dal prossimo video e vediamo un po' con l'interfaccia grafica l'interfaccia grafica sarà una command line interface, quindi l'interfaccia è la linea di comando non avremo un'interfaccia grafica nel senso moderno del termine quindi l'interfaccia grafica sarà questa nella cartella di windows vi troverete nella cartella git due programmi git bash e git guy voi cliccate su git bash che è appunto questa perché una volta imparato a lavorare dalla interfaccia linea di comando non avete nessuna difficoltà a lavorare da un'eventuale interfaccia grafica più moderna e più complessa quindi noi ci vediamo al prossimo video grazie